Nell'ambito di questo progetto, che ha un contributo dalla Presidenza del Consiglio Struttura di Missione per gli Anniversari Nazionali, noi abbiamo sintetizzato un'ipotesi sul tema LPC dal locale a nazionale, abbiamo avuto un supporto anche di ordine finanziario dalla Fondazione DS e abbiamo pensato che il progetto, oltre alla parte archivistica, potesse anche consistere nella raccolta di una serie di testimonianze che a vario raggio dovevano coprire la vicenda del PC Bresciano. Abbiamo raccolto insieme a Gianni Sciola oltre 20 interviste di principali dirigenti del Partito Comunista a Brescia dalla metà degli anni Sessanta in poi e da queste interviste dal mio punto di vista escono due aspetti principali. Il primo è che il PC a Brescia almeno a partire dalla metà degli anni Sessanta non si è accontentato di svolgere una funzione di opposizione ma ha voluto dare voce al riformismo municipale che poi è anche sfociato in quell'esperienza di carattere nazionale delle giunte aperte. La seconda è che emerge il profilo di un partito plurale dove all'interno c'erano varie sensibilità ma un partito plurale che è stato capace di stare insieme, di essere unitario non solo per disciplina ma anche perché c'era comunque un afflatto comune che era quello di puntare verso una società diversa e una società migliore e questo ha consentito direi a Brescia al partito di radicarsi e poi di dare vita ai suoi eredi che continuano a svolgere una funzione positiva nella società bresciana. Grazie Grazie Grazie